Abbiamo lanciato un grido di allarme, le residenze sanitarie assistite sono state fra le strutture sociosanitarie più colpite in Sicilia durante il periodo della pandemia, oltre alla gravissima situazione economica e finanziaria delle stesse dovute alla contrazione dei ricoveri e quindi alle misure stringenti di prevenzione adottate dalle residenze sanitarie assistite su indicazione all'istituto superiore di sanità, oggi facciamo i conti con una carenza ormai cronica di figure professionali, quali infermieri professionali e medici. Abbiamo chiesto più volte un incontro al governo, non più rinviabile, è necessario e concreto avere in realtà un'interlocuzione con i vertici dell'assessorato alla salute, quindi con l'onorevole Nello Musumeci, assessore l'interim dell'assessorato alla salute, il dottore ingegnere Mario Larrocca per trovare le soluzioni migliori e per affrontare le problematiche rispetto appunto alla carenza degli infermieri personali e dei medici all'interno delle strutture sociosanitarie. Abbiamo necessità di un incontro e di un istituzione, di un tavolo tecnico che ci permetta di dialogare e confrontarci per risolvere tutte le problematiche in realtà del comparto sociosanitario che rappresentiamo. Peraltro in passato avevamo obiettivamente creato un rapporto istituzionale proficuo e funzionale per risolvere le problematiche del comparto con l'ex assessore Ruggero Razza. Ci rendiamo conto anche che il Presidente della Regione è al momento impegnato su molteplici fronti e quindi riteniamo che è necessario un assessore a tempo pieno per poter in qualche modo risolvere le problematiche del settore che in realtà ci vedono in questi giorni lanciare un rito allarme per evitare la chiusura di queste strutture in Sicilia.